Invece Candela in Puglia non vuole dar la vinta allo spopolamento e trova questa soluzione, fa questa proposta per trovare nuovi cittadini. È un modo nuovo anche per reagire al problema dello spopolamento che come potete immaginare è un problema di grande attualità, è un contributo economico alle famiglie che vogliono trasferirsi a Candela. Siamo a Candela, sub Appennino Dauno, provincia di Foggia, 2.802 abitanti come tanti, piccoli centri e a rischio spopolamento. Da qui l'idea di un incentivo economico per attirare soprattutto famiglie, 2.000 euro per nuclei di almeno 4 persone. Il lavoro a Candela, assicura il sindaco, non è un problema. A 12 chilometri ci sono gli stabilimenti Fiat di Melfi, in paese una centrale termoelettrica, un'azienda vivaistica, poi siamo a poco più di un'ora da Bari, stessa distanza da Napoli. Una ricetta che non dispiace qui in paese. Il problema è sempre il lavoro, chi c'è lavoro se ne viene qua va benissimo. Matrimoni e nascite sono in aumento rispetto agli anni scorsi, un segnale che fa ben sperare ma è ancora poco per scongiurare il rischio spopolamento. Eppure qui, assicura il sindaco, la qualità della vita è davvero alta. Non dobbiamo arrenderci, noi abbiamo cultura, tradizione e buon cibo, quindi penso che sono tre fattori che non si trovano in altre parti del mondo.